Una lacrima dal cielo ha accompagnato le esequidi a Zeglio Vicini al rientro dai funerali celebrati al Duomo di Brescia. La comunità di Cesenatico, amici conoscenti ma anche tanti personaggi del mondo dello sport, si sono stretti attorno alla famiglia dell'84enne spentosi nella notte di martedì 30 gennaio. Vicini, nato nel 1933 a San Vittorio di Cesena, lascia la moglie Ines e i figli Ophelia, Manlio, Gianluca, nonché i nipoti. E proprio in quel mondo dello sport Vicini si è distinto da grande uomo quale era. I suoi altissimi valori e le sue importanti dotti lo hanno portato per dieci anni a militare nelle giovanili della nazionale, poi ereditò la nomina di commissario tecnico da un'altra leggenda come Enzo Berzotta nel 1986. La prima impresa fu scritta dopo due anni agli europei dell'88, la cavalcata si fermò in semifinale, poi a Italia 90 conquistò con suo rammarico una medaglia di bronzo che è stata la sua più grande impresa incompiuta. Contro l'Argentina furono fatali i rigori al San Paolo in cui era di casa un certo Diego Armando Maradona. Lasciata la panchina azzura ad un altro romagnolo come Enrico Sacchi, ci fu anche la parentesi alla loro stadio di Nomanuzzi in cui riuscì a portare alla salvezza il Cesena nel 1993 invischiato nella zona rossa della Serie B. A dare l'ultimo saluto da Zeglio Vicini una delegazione del Cavalluccio composta da Lorenzo Lelli, Gabriele Marco Valentini, Rino Foschi ma anche Lorenzo Minotti e Salvatore Bagni. Al termine delle celebrazioni religiose presso la chiesa di San Giacomo, la salma è stata tumulata presso la cappella di famiglia situata al cimitero di Cesenatico.